Lavoro nero nelle onoranze funebre, scoperti 130 operatori sommersi, scatta l'operazione Steel Jobs, la guardia di finanza eleva sanzioni per 230 mila euro. Profughe ucraine via dagli alberghi, troppo difficile lasciare Montesilvano, la solidarietà dei polacchi, parla Agneska, i miei parenti sentono le bombe dalle case. In Abruzzo arriva la nuova variante Covid, isolato il primo caso di Cerberus, al Mazzini di Teramo il centro Cefaleia aderisce a un nuovo progetto dedicato alle donne. Pescara verso il posticipo a Torre del Greco, lunedì prossimo in attacco ci sarà Alex Biancazzurro Riccardo Maniero, Teramo Turris cresce l'attesa per il Big Match in programma sabato alle 14.30 a Montoro. Ben ritrovati insieme, una nuova edizione del nostro TG Abruzzo si apre parlando di una operazione messa in campo dalla guardia di finanza di Popoli in provincia di Pescara, oltre 130 impiegati nel settore delle onoranze funebri stanati mentre lavoravano in nero, lavoro sommerso. Dunque ascoltiamo la cronaca nel servizio di Sara del Vecchio. Disoccupati tra i 30 e i 50 anni, impiegati come portantini nelle attività di spallaggio dei funerali senza contratto né tutele, e quanto emerso dai controlli effettuati in 17 aziende del Pescarese nell'ambito dell'operazione Steel Jobs delle Fiamme Gialle. Scoperti dai finanzieri della tenenza di Popoli, oltre 130 dipendenti risultati irregolari, di questi la metà completamente in nero, alcuni anche per cettori del reddito di cittadinanza e delle misure di sostegno emergenziali per Covid-19. Nell'organizzazione dei funerali, le aziende di pompe funebri occultavano i portantini in nero, registrando al loro posto la presenza di dipendenti regolarmente assunti. Spesso le stesse persone comparivano in più funerali nello stesso momento. L'80% del personale utilizzato in quasi 1.500 funerali ispezionati è risultato in nero o irregolarmente impiegato dalle ditte esecutrici delle seque per circa 6.300 giornate lavorative. Le verifiche dei finanzieri hanno coinvolto decine di comuni dell'entroterra pescarese e si sono basate, in una prima fase, nell'acquisizione dei dati sui funerali celebrati negli anni 2019, 2020 e 2021. Poi, per le ditte che presentavano evidenti segnali di anomalia, sono scattati una serie di controlli che si sono poi conclusi con maxi sanzioni amministrative per quasi 230.000 euro. Tutti i risultati sono stati trasmessi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'Inail per la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Voltiamo pagina. Molte delle donne ucraine ospitate in un albergo di Montesilvano, siamo sempre in provincia di Pescara, sono fuggite da città e paesi ormai completamente distrutti. Non riesco a sentire mio marito da giorni, dice una di queste, perché a buca non c'è corrente, io sono molto preoccupata. Qui mi sento al sicuro, ma ora ci manderanno altrove e per noi non è facile. Ascoltiamo. In albergo a Montesilvano si sentono al sicuro e si sono integrati nella comunità. Nelle città ucraine le case di molte persone non ci sono più. Alcune donne hanno compagni, figli e mariti nel proprio paese, da fine febbraio attaccato dalla vicina Russia. Luce è vicino al capitale, adesso non c'è luce perché Russia ha bombardato la mia città, ha bombardato Kiev, non c'è luce, non c'è l'acqua, non c'è gas, non posso ritorno alla casa. Hai lasciato i parenti lì? I parenti, anche il mio marito, anche in Ucraina. Io sono andata in Italia solo con mia figlia, lui va alla scuola qui a Montesilvano. Il tuo marito è lì? Sì, il marito è in Buccia, sì. Quindi tu sei molto preoccupata? Sì, sì, certo. Il tempo per l'accoglienza in hotel, dove il pensiero della guerra è meno ossessivo, è scaduto. Così come previsto dal decreto ministeriale, tra pochi giorni i profughi devono lasciare gli alberghi dove ormai vivono da mesi. Andare via non è facile perché bisogna ricominciare ancora una volta. Nei giorni scorsi, l'appello al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, da parte di cento ucraini accolti a Montesilvano, affinché non vengano trasferiti altrove. Non c'è da tornare, Donetsk ha compito questa guerra, Russia ha distrutto le case. che loro non ce l'hanno pure a casa dove possono ritornare e preoccupano cosa devono fare. L'accoglienza alberghiera però a costi elevate e ora c'è la necessità di trasferire gli ucraini nei circuiti di assistenza dedicati. Il presidente Marsilio ha ricordato che circa 10.000 ucraini sono stati accolti in Abruzzo da quando è scoppiata la guerra, ma non è compito delle regioni decidere sulla distribuzione dei richiedenti asilo e dei profughi a livello nazionale. Molti stanno andando anche in altre regioni, anche perché manca una rete di edifici vuoti inutilizzati. Nonostante sia stato archiviato il caso del missile caduto in Polonia, permane la preoccupazione tra la popolazione che vive e lavora in quella regione. Noi abbiamo sentito Agneska, che è residente a Corropoli da anni, ma che non dimentica la sua patria. Sentire il rumore delle bombe dalle proprie case è un'idea che a noi sembra surreale, ma che nella Polonia dell'Est è diventata realtà. Nonostante la Nato abbia archiviato il caso del missile caduto in Polonia, appurando che il razzo è partito da Kiev, questo incidente fa tremare chi vive a confine con l'Ucraina e angoscia i polacchi che lavorano e vivono lontani dai propri cari rimasti nella loro terra natia. Come Agneska, che abita a Corropoli e lavora a San Benedetto del Tronto. Infatti ho parenti in Polonia, ho i miei genitori, mia sorella e tanti amici. Siamo preoccupati per questo fatto perché la guerra non ha una confine, perché siamo anche molto rischio noi, polacchi. Abbiamo veramente tanta paura perché la situazione non è bella. Io vivo in Italia da qualche anno, però tutti i miei cari stanno lì e anche ci tengo tanto nel mio paese e ho veramente paura per il futuro di tutti. Anche di miei figli perché io ho un figlio e magari nel futuro vorrebbe tornare in Polonia e non so come sarà la situazione tra qualche anno. I polacchi restano in allerta ma non smettono di aiutare gli ucraini che fuggono dalle bombe. Insieme con gli amici qua in Italia abbiamo raccolto i vestiti, abbiamo aiutato tanti ragazzi dall'Ucraina, anche le mamme con i figli, le persone anziane. Chi poteva ha regalato vestiti, abbiamo regalato pannolini, abbiamo aiutato a trovare un lavoro a fine settimana anche come lavapiatti. Abbiamo conosciuto tanti ragazzi che avevano voglia di lavorare, di imparare lingua, di fare qualcosa, non stando solamente passeggiando sul lungomare, ma anche di dare un contributo stando qui in Italia. Due giovani pescaresi sono stati condannati per aver imbrattato le pareti del corso principale di Sulmona durante la manifestazione del 21 aprile 2018 organizzata da comitati e associazioni ambientalisti contro la realizzazione del metanodotto SNAM. Per noi Sara Del Vecchio. Due giovani pescaresi sono stati condannati per aver imbrattato le pareti del corso centrale di Sulmona con scritte NOSNAM nel corso della manifestazione di protesta contro la realizzazione del metanodotto che si è svolta il 21 aprile del 2018. Il giudice monocratico ha inflitto ai due giovani rispettivamente 7 e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. In particolare, tre i reati contestati, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e minaccia pubblico ufficiale. La pena è stata sospesa nei confronti di uno dei due ragazzi, mentre l'altro è risultato recidivo. I due giovani, utilizzando bobolette e spray, furono sorpresi sul corso video per aver scritto Fasci appesi NOSNAM, NOSNAM, la distruggeremo, utilizzando un simbolo di matrice anarchica. Torniamo a parlare di Covid, individuato in Abruzzo il primo caso di variante Cerberus, sequenziato nei laboratori di genetica molecolare dell'Università di Chieti-Pescara. Sergio Cinquino. Dopo i casi di Centaurus e Pentagon, arriva in Abruzzo anche Cerberus, l'ultima sottovariante del Covid, considerata più contagiosa delle precedenti. Una mutazione sequenziata nei laboratori di genetica molecolare dell'Università Chieti-Pescara, diretti dal professor Liborio Stuppia, che ne hanno individuato un caso. Fino ad oggi è stata proprio la dominante Omicron 5 a impedire il proliferare di altri ceppi. Un inverno che si annuncia comunque da non sottovalutare per quanto riguarda la prevenzione e i contagi. Cerberus è un altro mix di varianti che somma la pericolosità di Omicron, dei vari ceppi di Omicron, soprattutto di Omicron 2 e 5, che sono stati più infettivi di tutti. Quindi ancora una volta, come è successo quando è arrivata la prima volta l'Omicron, abbiamo una sorta di dream team, come una squadra di calcio piena di campioni, quindi di varianti che sono molto infettive. Poi la dobbiamo vedere alla prova dei fatti, se effettivamente arriverà o se sarà bloccata dalla forte presenza sul territorio di Omicron 5, quella pura diciamo. Con Cerberus indicata come la variante a maggior rischio di fusione. I contagi sono stati stabili tutta l'estate ed è la prima volta che abbiamo avuto questo negli altri due anni precedenti, avevamo il crollo dei contagi a giugno e la ricomparsa a settembre. Quest'anno sono stati stabili, non sono mai scesi tantissimo e non sono risaliti proprio perché comunque c'era una base di contagi tale che era difficile che risalissero. Adesso è arrivato molto in ritardo il freddo, molto in ritardo rispetto agli anni scorsi, dobbiamo vedere perché comunque il freddo aumenta le possibilità di infezione. Quindi adesso dobbiamo vigilare molto e sperare che non ci siano degli innalzamenti nel numero dei contagi e nel numero poi dei ricoveri che sono un altro parametro importante. Aumenta la possibilità di infezione e anche poi eventualmente la gravità dell'infezione o sarà un inverno più soft rispetto allo scorso anno? Sulla gravità dell'infezione ci sono tante variabili sui singoli individui. Non posso dire quale sarà l'esito di un'infezione su tutti perché ci saranno quelli che magari prima hanno fatto tre dosi di vaccino più il Covid, quelli che non le hanno fatte, quelli che geneticamente sono protetti contro i sintomi gravi. E' chiaro che più aumentano le infezioni più è possibile che ci siano dei casi gravi, magari in percentuale molto minore rispetto al ceppo di One, ma aumentando i casi questa percentuale minore può dare poi un valore assoluto comunque importante di quello che dobbiamo evitare. E ora andiamo a Teramo dove il centro cefalee dell'ospedale Mazzini ha uno dei 143 presenti in Italia ad aver aderito al progetto per la gestione dell'emicrania nelle diverse fasi di vita della donna. Sono 143 i centri cefalee su tutto il territorio nazionale che hanno aderito al nuovo progetto di Fondazione Onda dedicato all'individuazione di quelle strutture che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell'emicrania nelle diverse fasi della vita della donna. E fra questi c'è il centro attivo all'interno della WOC di Neurologia dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il primo appuntamento viene fissato tramite CUP e poi, a seconda della terapia e delle esigenze, vengono fissati con il medico gli altri appuntamenti. Ne soffrono circa 6 milioni di persone, 4 milioni sono donne. Tra le forme più frequenti però di cefalea sappiamo che quella più importante e che impatta maggiormente nella vita dei pazienti che soffroni mal di testa c'è l'emicrania. L'emicrania è un disturbo piuttosto frequente che non è un banale mal di testa. L'emicrania è una patologia specifica e può essere definita come un processo multifasico che inizia ancora prima di avere il mal di testa con dei disturbi quali irritabilità, depressione, stanchezza per poi sfociare nell'attacco vero e proprio che è di dolore altamente invalidante spesso con dei sintomi associati che possono essere più invalidanti e fastidiosi del dolore in senso stretto. Possono essere persone che magari hanno un mal di testa al mese un mal di testa ogni due o tre mesi e quindi possono gestirlo autonomamente con una terapia sintomatica. Altri pazienti invece che possono arrivare a soffrire di mal di testa anche quotidianamente. Sicuramente riconoscere ed individuare e fare quindi una corretta diagnosi tempestivamente aiuta a prevenire l'evoluzione verso una forma cronica di mal di testa con anche una componente di abuso di farmaci. Per quanto riguarda certificazioni ne avete ricevute diverse e ci sono anche percorsi dedicati alle donne. Riceviamo annualmente il certificato SISC che è quello certificato di accreditamento della società italiana delle sue delle cefalee per quello che riguarda le terapie che vengono svolte all'interno del nostro centro. Il paziente accede e si fa una diagnosi clinica qualora necessario viene indirizzato ad eseguire indagini neurofisiologiche e neurosonologiche che facciamo anche qui oppure se necessario anche esami neuroradiologici. In alcuni pazienti vi può essere un'indicazione a fare delle terapie nate più recentemente che hanno cambiato molto anche lo scenario di cura in particolare la tossina botulinica che pratichiamo nel nostro centro e la possibilità di effettuare farmaci di nuova generazione come gli anticorpi monoclonali. Nelle donne è più frequente perché? Nelle donne vi è una maggior prevalenza della patologia emicranica per un setting genetico ma anche per le variazioni ormonali che subisce la donna. Inoltre si è visto che nelle donne il mal di testa ha un impatto maggiore per quello che riguarda le attività di vita quotidiana e vi è spesso un'associazione maggiore con altre forme di dolore cronico per cui questo sicuramente impone una maggiore attenzione seguire una donna in questo percorso. Il presidente dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata Massimo Vagnoni ha conferito le deleghe ai colleghi sindaci il sociale che rappresenta la voce di spesa maggiore in termini economici e di gestione è stato sdoppiato come ci riferisce Alex De Palo. Con l'assegnazione delle deleghe ai sindaci l'Unione dei Comuni Val Vibrata è ora organicamente operativa. Il presidente della città-territorio Massimo Vagnoni a distanza di circa un mese dalla sua nomina alla guida dell'organismo intercomunale ha conferito gli incarichi ai colleghi sindaci. Una distribuzione equilibrata che ci consentirà poi di portare avanti il lavoro che il presidente Piccioni e con gli altri sindaci abbiamo portato avanti in questi anni e quindi cercheremo chiaramente di dare sempre un impulso alle tante criticità del territorio. Quali sono le emergenze importanti quelle su cui sarete chiamati a lavorare nell'immediatezza? Soprattutto il sociale chiaramente è un momento particolare, delicato in cui ci sono poi le opportunità del PNRR che dobbiamo cogliere. Abbiamo degli uffici che stanno lavorando da tempo con una programmazione ben definita e quindi stiamo lavorando molto bene. Il lavoro più ingente e delicato che assorbe buona parte del bilancio dell'Unione dei Comuni resta il sociale, le cui deleghe sono state sdoppiate ed assegnate anche in questo mandato al sindaco di Alba Adriatica Antonietta Caciotti e per la prima volta alla collega di Torano Nuovo Anna Ciamariconi. Il predecessore di Vagnoni, Domenico Piccioni, curerà la realizzazione e gestione del canile intercomunale. Il vicepresidente dell'Unione dei Comuni, Andrea Luzzi, continuerà ad occuparsi come in passato di sanità, bilancio e rapporti interistituzionali. Al sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, vanno comunicazione, protezione civile e informatizzazione. Al primo cittadino di Sant'Egidio alla Vibrata, Alice Romandini, lavori pubblici e centrale unica di committenza. A Mauro Scarpantonio, consigliere ed assessore del Comune di Controguerra, vanno tributi, personale, gestione amministrativa della piattaforma dei rifiuti. A Biagio Massi, sindaco di Colonnella, affari legali e piano di prevenzione alla corruzione. Al sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, vanno turismo, cultura e promozione del territorio. Al collega di Ancarano, Angelo Panichi, ambiente, ciclo integrato dei rifiuti, rapporti con la Poliservice, rapporti interistituzionali e transizione digitale. Infine, a Dantino Vallese di Corropoli, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. E l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli è stato indicato dal Terzo Polo come membro dell'Ufficio di Presidenza con funzione di tesoriere del gruppo Azione Italia Viva. Un importante incarico, ce ne parla al microfono di Chiara Bonatti. L'onorevole Giulio Cesare Sottanelli ha eletto alla Camera con il Terzo Polo nelle ultime elezioni e tre nuove sfide davanti a sé. Indicato dal suo gruppo come membro dell'Ufficio Presidenza con funzione tesoriere del gruppo Azione Italia Viva Regno Europe, commissario nella Commissione di Bilancio e commissario e segretario nell'aggiunta delle elezioni. Sono tre impegni importanti che, seppur siamo all'opposizione di questa maggioranza, sono tre ruoli che mi danno tantissimo lavoro e tantissime responsabilità che io, come sempre, con passione e determinazione porterò avanti. Per quanto riguarda il bilancio, lei comunque rappresenta anche l'Abruzzo, si può cercare di portare qualcosa in Abruzzo a favore dell'Abruzzo per le aree anche interne? Ovviamente l'impegno sarà massimo per raggiungere questo obiettivo. È ovvio che poi c'è una maggioranza che decide, perché nel momento in cui l'opposizione propone, ed è giusto che proponga e controlli, poi c'è una maggioranza che può approvare o bocciare, e quindi io certamente proporrò tante cose, farò diverse battaglie per l'Abruzzo e per l'Italia in generale e per la provincia di Termo ovviamente ancora di più. Speriamo che la maggioranza ci dia la possibilità di portare a casa cose importanti, quindi questo è il mio obiettivo. Siamo passati dal livello nazionale all'Abruzzo, adesso arriviamo al Teramo. La settimana scorsa abbiamo incontrato Camillo D'Alessandro che ha fatto il coordinamento provinciale qui a Teramo e ha detto appunto per le amministrative che si sta lavorando e la prima cosa è sentire azione. Vi siete sentiti? Che cosa c'è in Servo per Teramo? Ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo fissato per fine novembre un incontro di delegazione tra la nostra di azione e Italia Viva. Quindi certamente proveremo a fare un terzo polo vincente su Teramo città e quindi inizieremo. È il primo passo di un cammino che ci auguriamo ci possa portare al governo della città. Il candidato sarà di taglia viva o di azione? Partiamo prima dal progetto, partiamo prima dal programma e dalle tante cose che Teramo si aspetta e poi arriviamo anche al candidato. Due nuovi progetti della Fondazione Tercas, uno dedicato a un libro di Palazzo Melatino redatto da sei studenti dell'Università di Teramo e l'altro progetto sulla scoperta di atri sotterranea. La Fondazione Tercas continua nella sua valorizzazione di preziosi beni culturali nella provincia di Teramo. Sono pronti a partire due nuovi progetti, uno con l'Università di Teramo, il primo di quello che ora è diventato il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, con sei borse di studio a studenti che permetteranno di redigere un libro su Palazzo Melatino e un altro alla scoperta di atri sotterranea in collaborazione col Comune e la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi. presentiamo due progetti che però si muovono diciamo sullo stesso Ferruge, quello della narrazione del nostro territorio. Da tempo infatti stiamo sottolineando con tutti gli operatori del settore e le associazioni impegnate in questo campo come la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio passa per un'adeguata narrazione che è diversa dal racconto perché la narrazione coinvolge l'utente, va a toccare il suo vissuto, la sua sensibilità e lo rende parte attiva e non fruttore passivo di quello che è il progetto appunto museale oppure artistico. E quindi presentiamo oggi sei borse di studio che verranno appunto finanziate alla Facoltà di Scienze e della Comunicazione grazie ad un protocollo di intesa che oggi firmeremo con il Preside Corsi che impiegherà diciamo così tutte le risorse culturali della Facoltà, quindi sia i docenti che i ragazzi, nella redazione di un testo su Palazzo Melatino. Un testo che non è stato mai realizzato, che narrerà la storia di questo palazzo, della sua ristrutturazione e anche come esso si intreccia alla storia della Fondazione Tercas e alla storia di questo territorio. Possiamo dire che un po' nel filone di queste polemiche che ultimamente girano sui musei, la Fondazione Tercas va un po' sulla concretezza e sui progetti che valorizzano la città e i polimusiali. Noi abbiamo sempre creduto che Palazzo Melatino fosse non soltanto la sede della Fondazione Tercas ma in tutto e per tutto di fatto un polo museale e soprattutto un luogo dedicato alla cultura e dedicato a tutte quelle strategie che permettono ai nostri giovani di avvicinarsi alla cultura. Infatti i nostri laboratori, le nostre visite guidate che coinvolgono i bambini dai tre anni ai diciotto sono proprio in quest'ottica e anche nella concezione di una missione educativa che non coinvolge soltanto le materie didattiche ma coinvolge proprio la capacità dei nostri giovani di rapportarsi alla bellezza perché la bellezza salverà il mondo. Il calcio lunedì sera per il Pescara Posticipo a Torre del Greco con la Turris che in attacco schiererà l'ex biancazzurro Riccardo Maniero. Sentiamo Sergio Cinquino. Il Pescara di Alberto Colombo ritroverà Riccardo Maniero da avversario lunedì sera nel Posticipo di Torre del Greco con la Turris 43 reti in 133 gare in biancazzurro tra cui quella storica all'Adriatico con la nocerina dell'altro ex Auteri che valse il primo posto nella stagione 2011-2012 nel Pescara dei record di Ciro Immobile, Marco Verratti Insigne e soprattutto di Zeman. bei ricordi ma anche un pizzico di nostalgia per una squadra quella biancazzurra che ora sta facendo comunque benissimo in C a tre punti dal primato e che nell'allora formazione rivelazione che vinse a mani basse il campionato di Serie B aveva proprio come riserva di immobile Riccardo Maniero cui poi solo tre anni fa la società aveva promesso la riconferma in B nel caso avesse segnato sette reti nel torneo. Le segno sei più una nei play-out che non bastarono a far scattare la clausola in un calcio spesso irriconoscente. E ora Maniero guida con cinque reti l'attacco della Turris formazione campana che nelle ultime sei partite ha centrato soltanto due punti e non vince da oltre due mesi che dopo Canzi a inizio campionato e Padalino ora mette sotto esame anche David Di Michele un solo punto nelle ultime tre partite. Altri avversari rispetto a quelli del Pescara di Zeman ma non da sottovalutare con il campo di Torre del Greco che non sarà facile da espugnare anche per un Pescara che è tornato ad allenarsi e fuori casa ha una media stratosferica con cinque vittorie e un pareggio miglior risultato nei tre gironi di Serie C. Dopo il turnover Colombo tornerà alla formazione titolare domani amichevole a Cugnoli alle 14.30 con ingresso gratuito lunedì invece si comincerà alle 20.30 e arbitrerà Saia di Palermo lo stesso che ha diretto la trasferta di Foggia vinta dal Pescara per 4-0 Cresce l'attesa per Teramo-Turris il big match di promozione in programma sabato alle 14.30 a Montorio i biancorossi vogliono riscattarsi dopo l'ultimo K.O e guadagnare terreno verso la vetta Giussi Cingoli La pressione c'è e inutile nasconderlo su una gara quella tra il città di Teramo e la Turris Val Pescara in programma sabato a Montorio alle 14.30 che potrebbe decidere un'intera stagione per il diavolo che punta al primo posto distante 4 punti occupato dai pescaresi in casa biancorossa è stata indetta la giornata biancorossa sulla trasponda è previsto l'arrivo di un autobus di circa 50 tifosi pescaresi i biancorossi vogliono riscattarsi dal primo capò interno contro il Fontanelle e non perdere altro terreno dalla vetta tra le novità in formazione il tecnico Marco Pomante potrebbe buttare nella mischia dal primo minuto Stefano Degidio anche se non è ancora al 100% della condizione sarà ancora assente il portiere Bozzi che ha una leggera lesione al flessore della gamba sinistra e si sta sottoponendo alle cure del caso ma comunque il giocatore siederà in panchina per la presenza la buona notizia è il recupero del capitano Ivan Speranza che sarà della gara e la cui assenza ha pesato parecchio nella gara persa contro il Fontanelle un giocatore che ha esperienza di queste partite così importanti sto un po' meglio stiamo valutando giorno per giorno le condizioni sto lavorando sia con la squadra ma anche con lo staff medico per cercare di esserci sabato a tutti i costi dobbiamo ripeto valutare giornalmente la situazione in tribuna a Castelnuovo contro il Fontanelle che gara hai visto purtroppo in tribuna abbiamo fatto un buon primo tempo con qualche azione poi secondo me abbiamo avuto quei 5 minuti di blackout quando abbiamo preso il gol abbiamo fatto due o tre cose che non sono da noi abbiamo avuto proprio un blackout poi però siamo stati bravi a riprendere la partita in mano a pareggiarla a creare tante azioni da golle purtroppo non sfruttate nel miglior dei modi poi purtroppo il calcio è questo magari non segni e ti fanno golle nel Teramo ci sarà la conferma in porta di Antonio Donateo da valutare le condizioni del centrocampista spagnolo Tato nella Turris invece tra i pali ci sarà un ex Federico Serraiocco che nella stagione 2011-2012 in Serie D arrivò al Teramo insieme a Ivan Speranza e anche per questa edizione è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci